Il Presidente è informato dal primo giorno perché è venuto poi qui in Campania quando la precedente visita e disse bisogna lavorare tutti insieme, quindi questo decreto legge c'è in parte il suo impegno, il governo ha recepito le istanze e la richiesta della Regione Campania, io gli dissi proprio in quella occasione ci vuole una norma speciale, ci vuole una legge speciale, che non significa commissariamenti, solo esercito, ma azioni, misure, risorse per fare che cosa? Per togliere il veleno dove è stato trovato, per completare tutti gli interventi, la Regione Campania nel silenzio generale due anni fa combatteva da sola per trovare 300 milioni di euro per le bonifiche nel silenzio generale, in Europa combattendo, ce l'abbiamo fatta, quindi oggi abbiamo una parte delle risorse già in campo, se no oggi staremo a dire ma non se l'ha fatto nulla, ma nel silenzio in quel momento, oggi il tema è in prima pagina, quindi tutela dalla salute, controllo del prodotto in quell'area del territorio, che è l'1% del territorio della Regione, per il resto difendere i nostri prodotti, la bellezza della Campania verde, la Campania pulita, che ha un asset straordinario, i prodotti nostri sono prodotti certificati, sono prodotti ipercontrollati, più che in altra parte d'Europa e dell'Italia, quindi il nostro prodotto è un prodotto agricolo, un prodotto santo.